Per le prossime amministrative, in programma l'11 giugno, i candidati a sindaco per la città capoluogo di Regione sono stati invitati dalla CGL Almusmi di Catanzaro per presentare le loro proposte sul tema lavoro, diritti, politiche e sociali per una città moderna e inclusiva. Era assente il sindaco uscente Sergio Abramo impegnato altrove. Per il lavoro noi cercheremo di internalizzare tutti i servizi del comune più che è possibile per quanto lo consente la legislazione nazionale e poi grazie alla nostra presenza in Parlamento possiamo portare avanti questa battaglia che noi riteniamo giusta negli interessi dei cittadini per eliminare margini di corruzione e anche di sprechi per la finanza pubblica. L'incontro di oggi è un incontro a cui ha netto molta importanza perché io penso che Catanzaro possa cambiare solo col contributo di tutti. Le organizzazioni sindacali come tutti gli altri corpi intermedi devono essere chiamati a partecipare a questo cambiamento. La Catanzaro che vogliamo è una Catanzaro più giusta che alle politiche sociali dia molta più importanza di quella che è stata data in questi anni perché non possiamo lasciare nessuno indietro perché non possiamo accettare il disinteresse che c'è stato verso i soggetti più deboli. I più deboli, chi non ce la fa, chi è l'ultimo. Mi riferisco agli anziani, a chi ha disabilità, attenzione alle mamme per i bambini perché esistono pochi asili uniti a Catanzaro, soprattutto c'è un solo asili unito pubblico. Quindi dobbiamo costruire e cercare di portare dei servizi verso i cittadini che non ce la fanno. E mi riferisco anche alla sanità, dei centri di aggregazione per anziani, creare tutte quelle premesse importanti per fare in maniera che la qualità dei servizi siano efficienti e non la qualità dei servizi come attualmente nel comune di Catanzaro.